Sì, però prima il recupero è lento e ti fermi. Perché prendo un angolo più ampio? Spostati un'altra volta e me l'avevo già provato a spiegare, ma... Cosa ha detto Presidente? Oh, che ha detto... Aspetta che poi registriamo i nostri, stiamo registrando un'altra... Sì, vado a dirlo che così rimane i posti e facciamo a sentire... No, che era una cosa da pubblicizzare questa qua. Infatti sono rimasto molto contento di quello che ha detto. E' quello che volevo fare anch'io. E' quello che volevo fare anch'io.